Allora, vi chiedo di essere più diretti possibili nel raccontarmi qual è il motivo per cui siete qui. Oggi è super preso bene, quindi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa. Dai amore! Vieni, papà! Arrivo, arrivo! Veniamo da due famiglie molto diverse tra loro. È tipo due onde energetiche. Guarda che il dolore del patto non è poco. Amore, sono tutto tatuato io. No, 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 no! Da 1 a 10, quanto ti sono mancato? Due. Due, ottimo. Madonna, non riuscirei a fare più di due giorni l'anno sul set con lui. Per dare una svolta questa serata, balleremo io e Fede. Mi stai veramente stressando. Volevo fare San Revo tranquillo. Fedez! Do you know how to kill this? Befer Ragnets! Befer Ragnet, coli! Befer Khoi!